Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su GsG Heroes insieme a Metanal Ciao a tutti Ok ragazzi, prima che inizi il vero e proprio video Perché comunque, prima che inizia la partita Tra l'altro in Metano siamo capitati a fianco Ciao Metano Davvero? Oh, di russo, ma ciao Voglio parlarvi di una cosa So che tutti non guardano i video di Speedrunners Perché siete un po' stronzi E visto che io nel video di Speedrunners Ho parlato di una cosa importante Ve ne parlo anche qui Ho avviato una collaborazione con Instant Gaming Dove praticamente è un sito simile al G2A Però è molto meglio In che senso è molto meglio? Praticamente i suoi prezzi sono ancora più bassi di G2A E non vi nascondo che io da questo sito posso guadagnarci qualcosa Nel senso che ogni mese dalle mie visualizzazioni ci guadagno qualcosa Un po' come se fosse una partner tipo di Però io ci guadagno per i giochi che potto alla fine E guadagno anche dai giochi che comprate voi Ovviamente non vi posso dire quanto Però ci guadagno qualcosina che va nel fondo cassa Visto che ho deciso quale sarà il prossimo upgrade per il canale Sarà la GTX 970 E ho scoperto che la mia scheda madre può reggere il 4K E sinceramente a me questa cosa non fa schifo Anche perché potrei iniziare a portare il video a 60fps Che posso farlo No dale Ora io qua ti fermo Hai detto che la tua scheda madre regge il 4K Io voglio vedere i video in 4K sul tuo canale da oggi ok? Ok metano Voi Eh da oggi però Da oggi proprio Ancora prima che ti arrivi Eh peccato che questa scheda video qua non li regga Quindi abbiamo un problema di fondo Oh no Eh La mi fa salire l'epola via Hai trovato un po' da un po' Eh sì Dei piedini di pelle Eh la madonna Ma allora se io invece almeno ho trovato un Aspetta aspetta Se tu trovi un diamante O te lo passo io a te o tu lo passi a me Perché ne ho uno E almeno qualcuno dei due si fa la spalla in diamante Ed siamo vantaggiati Capito? Eh io se tu invece trovi un pezzo di ferro Possiamo farcelo anche così Eh ma io in verità ho tre pezzi di ferro eh Giusto così buttata lì proprio eh Molto interessante Se tu che non trovi un cazzo Io le cose più o meno le trovo Cioè non saranno cose OP Però qualcosa c'è Allora ho trovato una spada in stone Il che potrebbe essere buono C'è da me uno che mi vuole rubare la cesta Cazzo no 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 Scopagli la mamma metà Non so che dirti Me l'ha rubata Eh no vabbè guarda Se osi rubarmi la cesta Vedi che se ne va via Eh vabbè quello tranquillo Date che l'avrei fatto lo stesso probabilmente Quindi non voglio dargli false speranze Del tipo vabbè li lascio la cesta E non mi scopa la mamma No no Su mamma ormai è stata marocchiata Ok ho due pezzi di iron Non c'ho pure la crafting table Non ho gli stick Sono non sommato Io invece ho gli stick Ma mi manca la crafting table E sono triste Dai cavolo come si fa Non le trovo mai Quando le trovo non c'ho nulla da craftare Perché Non mi prendono per il culo questi giochi Vedo quanto manca Refill Eh in realtà non lo so Quindi io c'ho lo spawn vicino Quindi ci vado Oh penso manchino ancora due minuti Anzi un minuto Perché se ne ho ancora due minuti Lì quindi voglio Insomma capisci Intanto ragazzi scusatemi È tra i 60 secondi Vado allo spawn Scusatemi se sentirei rumore di T.S. Ma mi sono dimenticato di mutarli Praticamente Mi sono dimenticato di mutare i suoni di T.S. 50 secondi Vabbè 20 secondi ce la dovrei fare Sono qui praticamente Sono quasi arrivato Oh non c'è nessuno allo spawn Che culo Davvero? Ci siamo solo Io e un tizio Io e un tizio siamo Dai Oh Dave pronto 10 secondi Eh ok Ok siamo in 3 4 Eh che caccio Vabbè Vabbè Stavano aspettando di troll Di troll muro Stavano aspettando questi Ok hanno rifillato Ok Roba interessante da me Sì anche da me Abbastanza interessante Continua No a me alla fine Sì interessante sì Però niente di particolarmente buono Però Non mi è andata male Non mi è andata male Io c'ho 5 pezzi di ferro Manca poco potrei farmi l'armatura Ma non c'ho Io non 3 di pezzi di ferro Oh ho trovato la crafting table Che bello Che bello C'ho 3 pezzi di ferro La crafting table E non ho gli stick Quindi Uno contro uno Vediamo chi becchiamo No io ho pure gli stick In verità Ho beccato Eh me la crafto ora No Che sfiga Perché? Eh ho beccato un tizio Full chain E i piedini In ferro Mi sa che la perdo Buona fortuna Buona fortuna Mi sa che perdo Mi sa che perdo 5 Anche io ce l'ho uno in chain Cazzo 1 Ok Quello da me usa anche la canna da pesca Ma non la sa usare Vabbè Poco stupido Invece si Oh il mio Lachilaura Eh anche il mio Perfetto Vabbè ma dai ma che cazzo è Sono morto Ma che cazzo vuole piazzare le ragnatele Sto figlio di una grandissima Ma vedi da te Cioè c'è tardi Io c'ho quello lì con l'achilano E mi cavallare a 20 blocchi Eh ok Mi ha preso da 60.000 blocchi Ho perso Bella Bella A tra poco Eh non era un rutto Lo giuro E non ho detto soldi a caso No no ma tranquilli Metano mi deve 50 euro Così a caso Ragazzi non è vero No perché dai poi ci credono E dicono Ma metano perché deve 50 euro a d'ora E non è vero Se le inventa sul momento le cose Perché metano mi paga per fare video con lui Non volevo dirlo ma Questo non dovevi dirlo Ma quindi ti Adesso lo sanno tutti Adesso lo sanno tutti Ok informa tutti quanti milioni proprio ti sei fatto Minchia Perché qui non si parla di cifre Cifre a 3-0 4-0 No 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 Qui si parla di cifre a 5-6-0 Ragazzi mi sono fatto 150.000 euro da metano La villa proprio La villa La villa a Malibu Cazzo Meglio di più di pa Insomma Esatto No lui cazzo ci va al castello Mi sembra Eh si una cosa del genere Madonna è volato Io sto appuntando a farmi il castello Con i soldi di metano Raga Beh non lo so Infatti cioè Quindi proprio I big like Ragazzi tutti like a questo video Così facciamo vedere a Daniele Ogni like io prendo 1000 euro Poi una volta c'era la storia Che uno youtuber chiedeva like Perché tipo Costavano Cioè Ogni like lo youtuber guadagnava 5 euro Ma magari cazzo Daniele Ma tu chiedi sempre like nei video Perché ci guadagni Ma quanto guadagna Ogni like Farei Farei miliardi al mese Con youtube Se davvero un like Costasse 5 euro Cazzo Madonna Proprio l'oscurità Che si aggira Intorno a questa cosa Mamma mia Inizierei a pulirmi il culo Dopo aver cagato Con le 50 euro Forse con le 500 Penso sei illegale E chi se ne frega E pago lo stato Per farlo smettere Di essere illegale Date Oh Ma uno mi ha passato Uno mi ha passato i piedini Uno mi ha passato accanto E mi ha dato i piedini Ah pure a me l'hanno fatto Ma uno mi ha passato la spada Ma grandi Ma quindi c'è gente gentile Oppure stupidi Che premono qua a caso No non penso Via Mi ha passato proprio accanto E me l'ha data Cosa Non penso sia stupido Eh la topa Ehm Cosa Manda dio Non so quanto manca Effettivamente Ehm Penso un minuto 60 secondi appunto Mincia che precisione Un orologio svizzero Tempismo Un orologio svizzero Questo mi danno Ma io sono italiano La mia mamma Mi ha partorito italiano Con la cittadinanza Pensavo ti avesse partorito ebreo Date Ma perché Devi dire questo Perché poi è una religione Cioè Cos'è questa storia qui Ora che gli ebrei Sono ebrei Cioè scusami Ok Gli ebrei sono italiani Ebrei Ma nemmeno troppo Non esistono ebrei italiani Oh mio dio ragazzi Ma lo sentite Questo è razzismo puro Secondo me Cioè Parliamoci chiaro Date Questo è razzismo Via Comunque Invece di dire stronzate Come al solito Tu hai trovato qualcosa O no Eh diciamo che io Sono abbastanza nella merda Ottimo Anche perché Invece di cercare le ceste Mi sono messo a fare parkour Come un coglione E a dire Ebrei Già Già No ma non ce l'ho fatto caso Tranquillo Io comunque Ho due pezzi di ferro Ah ok Io quello contro di me Gli rompo il culo Non ha un cazzo addosso Quello contro di me Invece è tutto Ah quindi Non ci vediamo Mi sa proprio Di no Perfetto Almeno che non si è ritrovato Metano ti ricordi Quando ho detto Che non aveva nulla Cos'ha Tipo ha levato Tutto dal suo inventario E poi si è rimesso addosso Tutto quello che ha E full chain Con la spada in ferro Oddio Forse glielo spacco Il mio Forse glielo spacco Forse glielo spacco Forse glielo spacco E allora mettono questa Pure tu stai sparando Un sacco di cazzate Dai ma perché Mi levano tutte Ma io Vabbè Io non pago Forse la roba che stavi guardando tu L'ho presa io Cosa cazzo devi vedere Qui c'è un pezzo di neve A me Torte di Gesù Torta Pollo Cappellino No da me c'è armatura In iron Minchia Dai Io ci clicco sopra Me la leva Me la rimette nella cesta Ci clicco sopra E me la rileva E vaffanculo però Cioè non si fa mica così No ma non è la stessa mappa Tu c'è la neve C'è la neve Che bello No school Che bello No Dai io sono dietro di te io Eh Sti cazzi Mi vedo Potresti anche girarti E salutarmi Non lo so Giusto per educazione Mi dite se in culo O no Ma non dire così Dai Che poi appena giri l'angolo Io mi shifto E tu cosa fai Ti shifti anche te E mi lecchi il culo Parliamone Via Parliamone No no Questa storia la sei solo te E ti denuncio per diffamazione No Le denunce No Ne ho già ricevute Troppe Da chi? No veramente Eh Da Da tua madre Ecco da chi Ok Perché la stalkeravo Perché non me la volevo più dare Uh Questa pesa Questa pesa Come ti difendi ora Dai Difenditi Eh Dai Eh Eh Dipenditi Sì Di a tua mamma che il resto se lo può tenere Ma lo sa già E' abituata Ah Tenessi il resto Con tutte le persone che me lo dicono Scusami Mi maldice tutte le volte Che gli dico Oh mamma Mi ha detto Sì sì Ho già capito Ecco capisci E' così ogni volta Quindi insomma Non ha più nemmeno senso dirglielo Ah Quindi io ho solo il cappuccio in oro Perfetto Insomma Sono messo davvero bene per l'uno Sono messo davvero molto bene per l'uno contro uno Devo dire la verità Vabbè Date Se ti può consolare Anch'io non ho un cazzo Eh Io aspetto qui con calma E rifiuti delle chest E se mi va male Provo a indovinare Lo piglio nel culo Ah Ok Vabbè Penso che aspetterò pure io qui Perché ho parecchie chest vicino E quindi Visto che stiamo per aspettare Bambini Andate a comprare su Instant Gaming Così io mi faccio i big money Non fatelo bimbi Fatelo No ma non è che Andate Dovete Perché tipo Raga I giochi costano molto Tipo troppo di meno Cioè Far Cry 4 Su Steam e Uplay Costa tipo 60 euro Qui ne costa 25 Per dirvene una Ma Quella più ti costa 60 euro Qui Lo pagate 24 Io conosco un sito Che fa gli sconti del 100% Non so se lo conosci Eh si chiama un torrent Però non puoi giocare Sì Già Lo conosci anche te E' famoso E' vero Eh mincia Eh quindi A me non è uscito nulla E quello contro di me Mi spaccherà il culo No ma quindi A me non è uscito nulla E quello contro di me Mi spaccherà il culo Ah perfetto Madonna dai Oddio aspetta Se quello contro di me Non ha nulla Quello contro di me Invece Mi sono anche abbastanza bene Quindi Oh non ha nulla C'è solo Eh ok C'ho le frecce No no Come fa Come fa Come fa Da 30 blocchi Ma che cazzo sei Perfetto Bello Regà questo video Finisce qui E si intitolerà Non arriviamo all'uno contro uno Ed è molto triste effettivamente Quindi questo video finisce qui Da me metano è tutto In descrizione trovate il canale di metano Lasciate un like Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E bella Ciao a tutti Ciao